Good morning Milano, è lunedì, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, come state? Sono le 7.06 in questo istante, siamo prontissimi a iniziare la nostra nuova settimana in vostra compagnia, anzi siamo qui apposta per farci fare compagnia da voi, ma soprattutto per cercare di farla noi a voi, insomma cerchiamo di aiutarci a vicenda in modo da passare una bella settimana insieme, magari dopo un bel weekend, quindi oggi potete raccontarci magari quello che avete fatto nel weekend, al 3317853555, il weekend che se avete preso di voli non è proprio stato dei migliori, abbiamo letto, dopo leggiamo bene la notizia, è successo di tutto, nei cieli di Lombardia e del nord Italia, radar impazziti, dopo leggiamo bene le notizie, io ad esempio ho fatto un bel giro invece in quel della Svizzera con il trinino rosso del Bernina, poi se volete vi racconto anche quello, e vi do anche una chicca per riuscire a spendere un po' meno e farebbe bello il viaggio, non è che funziona bene, quindi rimanete collegati con noi, come si dice in questi casi, ma so di tanti voi che appunto hanno fatto anche altre bellissime esperienze in questo weekend, inoltre poi cosa succede oggi? Ma oggi c'è un po' di tutto a Milano, come sempre si riparte con la settimana pella piena di impegni, pensate così pieni di impegni che oggi pomeriggio vado al cinema da solo, poi dopo vi racconto anche questo, c'è un film che sarà in sala solo tre giorni questa settimana e quindi non voglio perdermelo, comunque come vi dicevo 3317853555, questo è il numero di Whatsapp, questo è il modo migliore, più veloce, più moderno, chiamatelo come volete, più facile per interagire con noi, per far partire questa mattinata insieme con un po' di musica, con un po' di notizie, sempre qua su Crystal Radio, questo è Crystal Radio, questo è Good Morning Milano. I Jet con How You Gonna Be My Girl alle 7 e 11 minuti, iniziamo a dirarvi giù dal letto nella maniera più forte che abbiamo, che è quella della musica, quella del ritmo, quella della chitarra distorta, quella del ritmo in il doppio clash, non so cosa sto dicendo, non mi addentro troppo in dinamiche musicali che poi magari dico stupidaggini, però insomma l'obiettivo è quello che conta, che è quello di farvi buttare, ci trarre giù dal letto in velocemente così che non arriviate tardi dove dovete arrivare, anche perché come dicevo insomma weekend particolare per quello che riguarda i trasporti, questa volta no, non sto parlando dei treni, non sto parlando di chiodi messi male, chissà dove, che hanno fermato passaggi di treni da nord a sud, ma semplicemente radar, e sì radar che sono andati fuori uso, leggo a Corriere della Sera Milano, voli per il nord Italia in ritardo o dirottati su altri scali, per due ore avaria ai radar che controllano il traffico aereo, e sappiamo quanto è un problema se succede questo, tempo fa a una fiera che c'è stata, da queste parti c'era l'ENAC con una dimostrazione, mi hanno proprio messo seduto al controllo aereo, e vi assicuro che è qualcosa di assurdo, ci sono non so quanti migliaia di aerei che transitano, passano, ci sono tanti livelli di controllo, da quello più alto a quello poi dopo fino alla torre di controllo che fa le operazioni solo di atterraggio, posteggio e decollo, fa solo quello, e vi assicuro che già solo quello non è un solo, cosa è successo quindi? Che ieri, no, sì domenica appunto, ieri, sono saltati dei radar per due ore, solamente due ore, pensate che si dice che anche oggi potrebbero esserci comunque delle ripercussioni, pensate quanto è importante quel lavoro che fanno, il problema tecnico ha bloccato buona parte dei voli diretti negli scali del nord-ovest, secondo Eurocontrol sono attesi ritardi da moderati a elevati, e c'è un rischio anche di ripercussioni sui voli appunto di quest'oggi, un problema ai radar ha bloccato per oltre due ore i voli nei cieli di l'Italia nord-occidentale, appunto domenica 20 ottobre, facendo dirottare decine di aerei su altri scali, cancellandone altri e causando non pochi disagi a chi è transitato da Milano, sia Malpensa che Linate, da Torino, Bergamo e Genova. E anche dopo la riettivazione dei sistemi i movimenti sono tornati regolari solo dopo alcune ore, come peraltro avevano appunto previsto anche Eurocontrol che è l'agenzia europea che sovrintende i movimenti dello spazio aereo in tutto il nostro continente. Insomma, situazione davvero difficile, come dicevo gli scali interessati principalmente sono stati quelli di Malpensa, di Linate, di Torino, di Bergamo e di Genova. Si è attivato ovviamente, ci sono anche dei sistemi di riserva, diciamo si è attivato subito il sistema di riserva che però impone, come dice appunto l'articolo sul Corriere della Sera, una riduzione del 65% dei movimenti in attesa appunto del ripristino di quello principale. Quindi si è riuscito comunque a portare a casa il risultato, però con quale è stato questo risultato? Voli dirottati proprio su altri scali, oppure voli appunto cancellati in una piccola parte perché dovevano far ripartire il sistema. Cioè c'è qualcuno che si è appoggiato, ha fatto control al cancer, riavvia il sistema, attendere prego. Magari si stava aggiornando Windows, sapete che ogni tanto quando accendendo il computer si aggiorna Windows da solo, non vorrei che magari sia successo qualcosa del genere. No, in realtà poi adesso si sta capendo che cosa sia successo, ma sta di fatto che insomma il problema è stato bello grosso e l'ha fatto veramente grosso. I treni invece sono funzionati bene, o almeno nel mio caso il mio treno, che è stato quello che da Tirano mi ha portato a San Moritz. È stata una giornata molto interessante, io ve lo assicuro, fatelo, cioè ve lo consiglio proprio, fatelo quel giro perché è veramente bellissimo. Treno rosso del Bernina, da Tirano a San Moritz date ritorno. Piccolo consiglio che vi dicevo prima, ci sono due tipi di treni che si possono prendere, c'è il famoso Bernina Express, che è panoramico, tutto vetrato, bellissimo. E che per prenderlo bisogna prenotare il posto e pagare un piccolo supplemento ai 60 franchi e passa già che costa il treno, solo l'andata. Però, no, date ritorno, 60 franchi date ritorno. Però noi abbiamo preso l'andata con il panoramico, il ritorno invece con il treno quello che viene definito regionale, locale, comunque il treno normale, classico rosso del Bernina. E vi assicuro, risparmiate i soldi del panoramico. E' bellissimo quello che è il locale. Anzi, forse è ancora meglio. Si apre i finestrini, si va più lenti e si gode, si gode, si gode tutto quel panorama del Bernina e di tutta quella bellezza che c'è. E quest'Ironi Queen con Radio Gaga alle 7.20 minuti di oggi, appunto lunedì 21 ottobre, lunedì il giorno in cui si inizia, il giorno in cui si parte, il giorno in cui si riparse tutte le settimane e così. Tutte le settimane è la stessa storia, c'è sempre la solita solfa. Ve ne siete accorti che è così, no? Che noi arriviamo belli felici, venerdì, oh, weekend, pieno di roba, ci ammazziamo di fatica al weekend perché vogliamo fare i migliori di cose. Poi abbiamo a lunedì, dove dovremmo essere un po' più riposati, un po' più sereni, un po' più tranquilli, distrutti e dobbiamo ricominciare una settimana lavorativa. Ah, no, beh, dovete effettivamente, adesso dire che io faccio fatica a fare questo lavoro e veramente, insomma, no, non voglio, anzi, io ringrazio sempre di poter fare quello che mi piace e di quello che, insomma, da sempre ho voluto fare, quindi sono ben felice. Ma invece so che, insomma, io penso che molti di voi, in realtà, spesso 20 anni si fa questo racconto, no? Che noi facciamo i lavori che non ci piacciono, siamo costretti a fare il lavoro per arrivare a fine mese, per pagarci il mutuo, però io sono convintissimo che ci sia tantissima gente che, per fortuna che sia così, io sono sempre positivo da questo punto di vista, fai il lavoro che gli piace, cioè fai quello che sarà stancante, si sveglierà la mattina presto per andare a fare quel lavoro, tornerà tardi la sera perché ha fatto quel lavoro, non stacca mai la testa perché gli piace tanto fare quel lavoro, però gli piace fare quel lavoro e quindi, secondo me, insomma, anche lì cerchiamo di non raccontare sempre il fatto che, insomma, il lavoro ci distrugge, il lavoro ci dilania, no, il lavoro, spesso, è scelto, non è solo imposto da altri, ovviamente bisognerà scendere a compromessi, bisognerà trovare le dinamiche giuste per poterlo far funzionare, però c'è tantissima gente, io ne sono convinto, ne conosco tanti, che ogni mattina si alzano, stanchi sicuramente, ma felici di andare a fare il proprio lavoro e quindi ascoltiamo queste persone, parliamo con queste persone e soprattutto buon lavoro, anzi, sapete chi ci dice sempre buon lavoro? Filippo Poletti. Buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è umiltà. So di non sapere, posso imparare da tutti e ovunque. Chi l'ha detto? L'ha detto il CEO di Ferrari, Benedetto Vigna. L'umiltà è molto, molto importante, ha spiegato, perché ci aiuta a sviluppare il pensiero critico, ci spinge a leggere, ad esempio, libri e a trascorrere del tempo di qualità con le persone, appunto per sviluppare l'intelligenza emotiva, importantissima oggi in tutti i settori. Bella lezione di Benedetto Vigna. La seconda parola della settimana è come ti senti, il vero leader è quello empatico, l'abbiamo detto più volte, quello che quando ti incontra, quando vi incontra, vi chiede come ti senti al posto di come stai, a raccontarlo chi è. È Enrico Galasso, il CEO di Birra Peroni, che ha spiegato. Quando tu chiedi come ti senti, le persone ti rispondono, non in modo automatico, come quando gli chiedi come stai, e allora, quando incontriamo qualcuno e quando il vostro capo vi incontra, ebbene, dovrebbe chiedervi come ti senti. Bello spunto di Galasso, Birra Peroni. La terza e ultima parola chiave della settimana è PRO-PON-E-TE-VI. Ascoltate un po'. Quando pensate di avere i requisiti giusti per una promozione, PRO-PON-E-TE-VI. È importante, l'ho sempre detto alle mie figlie, la parità è conveniente, ne guadagniamo tutti in termini di PIL, di rendimento della produttività delle imprese, di riduzione della povertà e di crescita delle nascite. Chi lo dice? Lo dice la ex presidente della RAI, Anna Maria Tarantola, ed ex vice direttrice generale di Banca d'Italia. Lo ricorderete. Cresciuta nella città dell'Eni, a Metanopoli, da dove vi stiamo appunto trasmettendo. Quando ero vice direttrice generale in Banca d'Italia, c'era la fila di persone che venivano a presentarsi, a proporsi per una posizione. Tutti uomini, ha ricordato. Allora ho preso il telefono e ho chiamato una dirigente impegnata nell'ambito delle pari opportunità. Dunque, dunque, quando sentiamo di meritarci una posizione, proponiamoci. Non aspettiamo. E allora, dopo la parola umiltà, dopo il come ti senti e il proponetevi, vi auguro buon lavoro a tutti. Britney Spears, baby, one more time, alle 7.37 minuti di lunedì 21 ottobre. Apprezzata dai nostri ascoltatori, dai nostri ascoltatrici, perché arriva un WhatsApp. Buongiorno, che lunedì magico potrà essere se si inizia con Britney? Grazie, prego, come dire. E poi arrivano anche i messaggi, invece, su cosa avete fatto nel weekend. Alberto ci scrive, domenica passata sui binari di Trenord per le visite del treno storico di FNM all'impianto di Novate milanese. Molto bello e ben organizzato. Altro weekend di trasporto e ferroviario per il nostro Alberto, che poi commenta anche la mia, invece, il mio weekend sul trenino rosso del Bernina. Dice, il treno rosso del Bernina delle ferrovie retiche è un'esperienza fatta molti anni addietro, addietro sì, e anch'io lo consiglio a tutti. Poi mi chiede, hai trovato la neve? No, non abbiamo trovato la neve, abbiamo trovato il Fogliage, però c'erano veramente, allora io ho sempre preso un po' in giro quelli che andavano a fare il trenino del Fogliage, con la roba di, vabbè, sono quattro foglie colorate, le trovate anche qua a Milano, se girate in questi giorni è pieno di Fogliage, anche a Milano. Ma in realtà devo dire che è molto bello, perché ci sono dei punti davvero bellissimi, dove c'è il lago dietro, questi pini, credo pini, come no, pini no, perché i pini non cambiano colore, comunque sono delle conifere, ok, diciamo così, con, nello stesso, è bellissimo, perché hai due alberi praticamente identici, uno completamente verde, l'altro completamente arancione, poi dietro c'è uno completamente giallo, poi uno quasi rosso, cioè veramente, patchwork di colori stupendo, e vi lo consiglio davvero, vi ricordo, piccolo consiglio che mi piace darvi, se volete fare il giro appunto sulle ferrovie retiche con il trenino che va da Tirano a St. Moritz, poi volendo si può andare anche più avanti fino a Coira volendo, se arriva fino a Coira, io vi consiglio di non prendere in realtà il Bernina Express, quello nuovo, tutto vetrato, bellissimo, tra parentesi, così vetrato che non riuscite a fare le foto fuori perché sono i riflessi, e quando lo prenotate ve lo scrivono su però, devo dire che sono svizzeri anche in quello, ma vi consiglio di prendere il biglietto normale, il biglietto normale basico che non serve neanche la prenotazione, quindi salite, se c'è posto vi sedete, se no prendete un altro pezzo, ne passano ogni ora e che è il regionale appunto, che è quello classico rosso che avrete sicuramente visto nei vari foto, vari filmati, se volete l'ho pubblicato anche un filmato appunto della nostra gita sul Bernina, comunque vi consiglio di prendere quello, costa un po' meno, va un po' più lento, fa più fermate però, tra parentesi se prendete quel biglietto lì e non avete prenotazione potete salire e scendere quando volete, dove volete, prendere uno, poi scendete, ve ne state un'oretta a fare una passeggiata, magari a mangiarvi qualcosa, se siete ricchi avete i soldi per mangiare in Svizzera, e comunque poi prendete quello dopo, devo dire che tutti quanti infatti con i paninetti, cioè sembrava veramente la gita delle medie, tutti con i paninetti sul treno, appena se erano sul treno c'era qualcuno che apriva un paninetto e se lo mangiava, perché effettivamente il problema è come semmai per noi altri italiani è il contesto intorno a noi che insomma è un po' caro. Arrivano anche i Whatsapp sul discorso del lavoro, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti, presente dice, sono stanca morta, spesso esco di casa alle 7.45, non rientro prima delle 18.30, ma amo il mio lavoro, faccio qualcosa che mi rende felice, buon lunedì da quella di Bergamo, vedete che sapevo che c'era qualcuno che ama il suo lavoro a cui piace fare il proprio lavoro, ma perché non è una cosa scontata, noi raccontiamo sempre di quelli che io sono stata costretta a scegliere un lavoro e invece poi alla fine il lavoro è bello quando lo riusciamo a scegliere, quando facciamo quello che ci piace, c'è per fortuna chi lo fa e facciamoci contagiare anzi dalle persone che amano il proprio lavoro e che lo fanno con grande passione, con grande voglia, poi ovviamente non è che ti stanchi di meno, è che ti stanchi uguale, anzi, spesso vi dirai molto molto di più perché poi non stacchi mai, però insomma quanto è bello fare quello che si è sempre sognato fare. Gali, niente panico, la nuovissima di Gali che insomma sta facendo impazzire tutti quanti e finalmente insomma lo volevo ascoltare anch'io, non avevamo ancora programmato la mattina, quindi sono contento grazie all'ufficio programmazione per averci regalato Gali con niente panico questa mattina, lunedì 21 ottobre sono le 7 e 45 minuti e abbiamo qui davanti i giornali, i giornali che ci danno un'immagine della nostra città che insomma un po' forse avevamo già snasato come si dice in questi casi ma che insomma arriva la conferma perché da Corriere della Sera Milano dice hotel di lusso a Milano quattro nuovi super alberghi e altri piranno a breve chi arriva qui vuole gustare lo stile di vita milanese cioè spendere una baccata di soldi cresce il turismo di lusso a Milano i nuovi 5 stelle sono Casa Brera Plain Hotel Casa Brivio e Rocco Forte House quest'ultimo non è neanche un hotel tradizionale ma sono alloggi privati con servizi esclusivi un'idea appunto per quello che stiamo leggendo così velocemente nei prossimi mesi poi operano anche il Rosewood il Sixth Sense il Sixth Sense scusate il sesto senso appunto i sei sensi scusate però ad esempio Casa Brera no? Casa Brera gestito da Marriott stanza sull'800 euro ok? al giorno non al mese non è una doppia per gli studenti no non è quella roba lì nuovo hotel da scoprire in Piazzetta Bossi un angolo nascosto dove viuzze il quartiere dietro la scala si chiama così perché vogliamo trasmettere il feeling della casa effettivamente vi fanno pagare l'affitto di un mese in una notte quindi insomma il feeling con la casa c'è effettivamente e se da una parte Milano è questa cosa qui no? è questo voler dare il lusso a quei milioni di turisti che vengono a Milano 10 milioni di turisti l'anno molti di questi sono alla ricerca del lusso almeno così dicono secondo me in realtà non sono alla ricerca del lusso glielo diamo e quindi quello trovano e devono accettare quello tra parentesi io continuo a dire facendo così tu hai solo un certo tipo di turismo che ovviamente è quello che economicamente preferisci perché è quello che ti fa guadagnare di più ed è quello che spende meglio e più è più felice di spendere ma se da una parte appunto c'è questo grande lusso dall'alto c'è sempre l'annoso problema delle abitazioni per soprattutto gli studenti fuorisede che vengono qui e quindi leggiamo la cura della sera a Milano affitti a Milano debutta il co-living in 27 nella stessa casa con Netflix barbecue e palestra ma due soli bidet così dice il titolo della cura della sera e fin qui uno pensa ecco è arrivata una roba tipo alto che appartamento spagnolo alto che in 50 in un appartamento di 4 metri quadri niente cioè ci si inventa qualsiasi soluzione per riuscire a sopperire al caro casa e anche gli studenti devono trovare una soluzione no non è quello perché poi si va avanti dice paghiamo 1400 euro al mese ma ne vale la pena così dice e quindi leggo nato in Danimarca è già diffuso negli Stati Uniti in Gran Bretagna e in Francia ora co-hubs sbarca a Milano in zona d'ateo si condivide lo stesso tetto bolletto e pulizia inclusi nel prezzo il 70% degli inquilini è straniero e under 30 quasi tutti insieme appassionatamente a condividere gli spazi di quella che può sembrare una via di mezzo tra un appartamento e un fuorisede da Erasmus e la casa del grande fratello escluso le telecamere è nato in Danimarca appunto co-hubs e adesso sbarca a Milano bene siamo riusciti a farci fregare anche questa volta complimenti cioè 1400 euro al mese per vivere in un appartamento insieme ad altre persone in realtà non è solo un appartamento è un po' più complesso nel senso viene regalata data la notizia come se fosse appunto la soluzione per gli studenti fuorisede in realtà è una soluzione abitativa per chi può permetterselo molto alta di gamma anche con dei bei servizi ma insomma molto molto particolari diciamo ecco i Chemical Brothers con Let Forever Be dal 1999 pezzo vabbè insomma pazzesco che ha segnato sicuramente la mia adolescenza ma più di tutto forse è stato il videoclip di questa di questa canzone a segnarmi indebilibilmente Michel Gondry grande regista francese per darvi un'altra canzone Around the World Around the World ecco ok il videoclip di Around the World è sempre di Michel Gondry fatto il videoclip appunto di questa Let Forever Be dei Chemical Brothers bellissimo perché perché lui unisce la gli effetti visivi diciamo digitali potete immaginarvi cosa poteva essere nel 99 comunque un effetto digitale visivo con gli effetti ottici e della narrazione e della costruzione di scenografie so che detto così sembra una cosa strana beh andatevi a cercare dei videoclip di Michel Gondry scoprirete che metà delle cose che voi pensate siano effetti speciali in realtà sono effetti artigianali sono fatti proprio a mano spesso volentieri con specchi oppure costruzioni oppure semplicemente c'è una scena in questo videoclip dove l'attrice si sdoppia anzi diventa tipo dieci volte in realtà sono dieci attrici diverse sono dieci ballerine che con un effetto di specchi sembrano estrapolarsi dal corpo della ballerina principale insomma Michel Gondry andatelo a cercare ci sono anche dei film ha fatto un paio di film davvero interessanti ecco magari se volete cercare non è proprio il cine panettone ecco se volete farvi le risate con Boldi e De Sica non è Gondry che dovete andare a vedervi però onirico fantasioso romantico spensierato insomma diciamo sì onirico onirico forse è la parola giusta vi fa fare veramente dei viaggi nella sua mente e poi in realtà nell'interiorità di noi umani un grande artista che vi consiglio Michel Gondry dateci un'occhiata e cercate qualcosa suo che davvero non rimarrete delusi come in realtà non sono rimasto deluso da ciò che sta succedendo sui giornali locali in questo in questo periodo nel senso che di solito lunedì abbiamo un po' più articoli da leggere perché abbiamo quelli del weekend da andare a prendere mi sto accorgendo da qualche weekend da questa parte che in realtà i giornali locali di Milano soprattutto in una sezione online nelle parti digitali online stanno leggermente cambiando la propria identità o meglio il proprio lavoro per andare verso una realtà molto più interessante quella del racconto o delle storie o degli approfondimenti nel senso poca cronaca poca breaking news durante il weekend ma escono articoli che raccontano storie a volte anche avvincenti o comunque legate all'attualità come ad esempio un arresto a Malpensa leggo su Repubblica Milano arrestato a Malpensa al criminale informatico italo-australiano ricercato dall'FBI il messaggio con codice errore e le truffe agli anziani in tutto il mondo l'arresto è venuto in esecuzione di un mandato emesso dalla Corte Estrutturale del North Carolina e sarà quindi estradato negli Stati Uniti e l'articolo racconta la storia molto bene di quello che è successo potrebbe quasi sembrare di leggere un libro noir o un thriller ecco oppure ci sono di approfondimenti ad esempio su cosa succede in città su Corriere della Sera leggo in classe alle scuole serali di Milano tra emigrati già laureati e pensionati a caccia del diploma ora è mio figlio che mi aiuta a fare i compiti viaggio tra i 700 fuori quota iscritti ai corsi di istruzione per adulti quando ho detto a mio marito che tornavo tra i banchi si è messo a ridere il cambio dell'utenza e l'avvento degli stranieri siamo già laureati ma non ci riconoscono il titolo quindi anche qui un approfondimento una bellissima storia raccontata molto bene da Alessio Di Sauro sulle colonne del Corriere della Sera e poi un altro interessante un approfondimento invece di Lucia Landoni e Daniela Solito il mercato clandestino dei farmaci per il diabete usati per dimagrire la pericolosità la pericolosa moda dell'Ozempic che si diffonde sui social e su Telegram un bellissimo articolo molto lungo molto ben scritto che affronta questa tematica appunto di questo mercato clandestino dei farmaci usati per dimagrire ma che sono nati invece per diabetici e Daniel Straits con Walk of Life alle 8 e 11 minuti qui su Cristiano Radio Good Morning Milano inizia dalla seconda ora di trasmissione questa mattina avremo una nuova rubrica che poi vi andremo a spiegare meglio ma che insomma andremo a capire meglio com'è la musica che ascolta la Gen Z io non la capisco non ce la faccio non ho gli strumenti quindi devo riuscire ad avere qualcuno che mi aiuta anzi anche voi 331-78-53-555 cosa state combinando in questo momento so che lunedì è il giorno un po' più complicato per le interazioni con noi perché siete tutti di ritardo perché mi siete sbriati tardi siete tutti lì pronti a correre a prendere qualche cosa che vi porti al lavoro non sapete neanche voi bene che strada dovete fare quasi lunedì mattina perché siete ancora con la testa al weekend ma avete tutte le incombenze tutta la vostra vita vi scorre davanti è così che funziona io so che lunedì mattina vi svegliate siete lì pronti che bello un'altra mattina ecco tutta la vita che vi scorre davanti tutti gli appuntamenti che dovete avere oggi tutta la settimana tutte le scadenze che non avete sistemato venerdì e quindi oggi devo fare quella roba lì che venerdì non ho fatto lo so che va così tutti lunedì è così però insomma cercheremo come sempre noi di darvi una mano e di aiutarvi tanto che appunto questa mattina verrà qui qualcuno ad aiutarmi invece per capire un po' meglio anche questa musica della Gen Z che io faccio veramente fatica a comprendere quindi anch'io ho dei limiti sì sono umano anch'io pensate bene effettivamente faccio fatica a volte quindi allora avremo questa nuova rubrica curata da chi? ovviamente dalla nostra producer Beatrice che verrà qui con noi a raccontarci tutto quello che appunto non ho non so della Gen Z adesso vediamo poi perché neanch'io ho ben capito cosa mi verrà a raccontare insomma ve lo dice subito dopo la prossima canzone però prima questa la conosco è nuova ma la conosco loro sono Paolo e Chiara insieme a Big Mama e parlano del linguaggio del corpo Paolo e Chiara insieme a Big Mama il linguaggio del corpo alle 8 e 15 minuti qui su Crystal Radio dove appunto adesso entreremo in lande a me sconosciute che sono quelle della generazione Z della musica che ascolta la generazione Z ma non potevo non farlo con appunto la nostra producer che però viene introdotta da una sigla si pensate ha pure la sigla si ha pure la sigla fatta ovviamente alla Gen Z cioè con l'intelligenza artificiale e quindi buongiorno Beatrice con la sua sigla con la sua sigla Beatrice arriva col sorriso porto ovunque un mono in milano la sua voce che rispende scopriamo con lei le canzoni che ci rendono cosa? ti trasporta ti convogge ti si accende il cuore canta con Beatrice ehi vabbè mi splende il suo jingle mi splende il suo jingle ehi è Beatrice ecco il ritmo le fleschezza la musica nuova da esplorare Fabio Ascorte è tempo di imparare hai capito Fabio Ascorte è tempo di imparare comunque va bene dura più la sigla che il suo intervento buongiorno Beatrice buongiorno ci porti a ma poi c'è un testo completamente inutile questa tua jingle parli come se l'avessi fatto io l'ha fatto la I l'ha fatto la I l'ha fatto la I dietro le nostre indicazioni esatto mi ha spiegato chi eri e poi la I ha fatto beh però è carino è orecchiale Fabio Ascolta che è un tempo di imparare e quindi io sono qui per imparare dice il tuo jingle quindi insomma che si autonomi l'altra parentesi hai notato che dice Ascolta il suo jingle si autocita comunque Beatrice allora io ho questo problema nel senso che faccio veramente fatica a comprendere un po' la vostra musica a seguire i vostri idoli e beniamini e quindi ho chiesto l'aiuto da casa o meglio dalla redazione cioè da te tra l'altro io parlo come se fossi la rappresentante di tutta la genzetta ma non è detto che tutta la genzetta ascolti ascoltà proprio che dice beh non puoi non ascoltarlo chi è uno varia un po' dai generi più che altro non so due o tre generi sui generis chi è che c'è musica indie ci sono Franco 126 Calcutta per me è una macchina è la Fiat 126 quindi non so cosa sia Franco 126 ma no Calcutta lo conosco ma Calcutta lo conosco Calcutta è un po' un idolo di quelli indie un po' meno indie ormai anche lui no no è proprio secondo me indie è così indie che ha fatto il giro completo perfetto ma invece non so perché anche i generi io so indie e trap ma c'è altro poi non so eh c'è il pop ah c'è il pop il pop chi è che ascoltate è tipo Fred De Palma fa un po' pop allora so che ha fatto Sanremo mi fermo lì io non lo ascolto ecco ah vedi 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 invece sulla trap chi abbiamo al momento qual è l'ascolti trap un pochino ricordiamo sempre che sei di città studi quindi insomma comunque arrivi dalla zona di là è Lambrate città studi cioè state of mind quindi comunque esatto e dipende c'è quella un po' più aggressiva aggressiva e ad esempio tutti quei personaggi Simbala Roo tutti questi ah quelli sono di qua mi sa sono della mia zona questi questi repenni oh bro sono della mia zona sono della mia zona bro e poi ci sono quelli un po' più famosi un po' gli OGs cioè gli Originals OGs OGs che sono magari OGs OGs vuol dire Originals ah non si può dire Originals eh nella scena ah va bene OGs va bene e chi sono gli OGs e sono quelli grossi quindi Tony F quindi Gali capito Tony F è quello grosso capito e diciamo nell'area rap trap Anna Pepe Anna Pepe Anna Pepe ne faremo una puntata te lo dico Anna Pepe abbiamo avuto le richieste per fare una puntata solo su quella diciamo quindi nel senso perché Anna Pepe che tra parenti io conoscevo con il nome di Anna e basta poi a un certo punto gli è arrivato il Pepe in più non ho capito perché no si è sempre chiamata io quando facevo a bando sempre chiamata Anna e basta quindi vabbè e perché lei dice ehi Anna e non dice Anna Pepe e infatti invece scusa scusa Anna adesso va bene tutto impara da Baby K che invece dice ehi Baby K lo dici ehi Baby e basta scusa impara nome e cognome presentati cioè non ci conosciamo avrebbe più senso Fabio Ranfi cioè gli rispondo io comunque oggi ci hai portato una canzone ci hai portato faccio fatica solo a capire chi l'ha fatta già ci sono 18 cose non si capisce chi canta sono tre nomi tre allora Night Skinny che è il producer famosissimo bravo chi non conosce Night Skinny l'irreprensibile Night Skinny chi non lo conosce ha fatto un sacco di album molto molto belli come ad esempio Mattoni Mattoni è un altro album pensate voi vogliamo veramente altri poi dopo Night Skinny poi Night Narcos ma è famosissimo Night Narcos lui e Guè sono due rapper abbastanza vecchi perché hanno 44 43 vecchi per la scena old school esatto un po' più old school un po' più crudi di solito in modo che hanno di fare rap poi c'è Guè che è anche Guè è un personaggio che ha perso il cognome invece lui perché lo conosciamo come Guè Pechegno e adesso è solo Guè a differenza di Anna Peppe che se l'ha aggiunto lui se l'ha tolto a volte mette a volte toglie quindi Night Skinny Night Narcos e Guè in tre per fare un capolavoro allora non è definibile magari capolavoro è una bella canzone di quest'album che è nuovo perché è uscito due settimane fa secondo me è molto carina la canzone è Mio Padre Mio Padre e quindi adesso ci andiamo a ascoltare due minuti e venti e poi ci dite cosa ne pensate anche voi ma soprattutto me la spieghi io ho bisogno dello spiegone di questa canzone perché so già che capirò la metà di quello che dicono no non è detto va bene e allora Night Skinny Noise Narcos e Guè con Mio Padre Night Skinny Noise Narcos Guè con Mio Padre sentila così è abbastanza comprensibile fino a un certo punto in realtà nel senso ho capito è dedicato al padre credo che non c'è più e poi fa delle similitudini tra lui e suo padre cioè moltamente perché sono cresciuti spieghiamolo tu perché appunto voglio arrivare a capire bene subito il ritornello ci sei andato vicinissimo allora sul fatto che entrambi i genitori dei due rapper in questione non ci sono più cioè il padre di entrambi non c'è più si capisce c'è una una sorta di similitudine però doppia perché se tu ci fai caso nella prima strofa c'è quella di Noiz Narcos l'immagine del padre Noiz Narcos situazione familiare lui è nato a Modica quindi papà del sud papà che porta il pane a casa papà che è visto anche quasi come una figura il capo insomma della famiglia come c'è in tutto un po' le credenze del sud quindi il rispetto per la figura paterna il fatto di essere come lui che si sacrifica c'è anche viene menzionata anche una dimensione un po' sacrale attorno al padre viene menzionato Cristo come uno che si sacrifica ok invece Guè dall'altra parte cioè l'altro fa un altro discorso sul padre cioè dice non voglio fare gli stessi errori che ha fatto lui dice ho fatto piangere mia mamma come mio padre ho paura di non essere un buon padre quindi ci sono due esempi di rapporti patè figlio padre che sono molto diversi insomma entrambi un po' un po' duri un po' dovuti forse tra virgolette perché in uno c'è un po' quasi la paura per il rispetto del padre che è la figura che non può essere sormontata da nessun altro non si mette in discussione per noi il narcos non si mette in discussione il padre esatto mentre invece per Guè c'è anche la figura del padre che non ha dato magari ciò che aspettavi ti desse quindi tu ti ritrovi un po' perso ritornello se fossi stato un buon figlio quando tu eri in vita non avrei svoltato la mia vita esatto che è una frase molto ermetica infatti non si capisce da che parte vuole andare ripete solo questo ma non è molto esplicativa potrebbe essere se fossi stato un buon figlio quando tu eri in vita non avrei fatto questa figata di vita che faccio adesso però potrebbe sembrare anche oppure invece non avrei fatto gli errori cioè la svolta viene concepita come gli errori non è facilissimo da comprendere esatto allora io non ho trovato spiegazioni che venissero proprio da loro tre che hanno scritto il testo cioè la canzone però io l'ho interpretata più nel primo modo in cui l'hai detta cioè spesso il conflitto che si ha con i genitori riguardante anche la vita dei figli stessi porta a allontanamenti porta a degli scontri e non è detto che però seguire a regola d'arte ciò che i genitori ti dicono soprattutto sulla vita che è la tua ti renda poi effettivamente felice o ti porti a fare quello che vuoi fare davvero quindi io l'ho interpretata come un se io ti avessi dato ascolto avessi fatto quello che volevi tu per me nella mia vita non avrei la vita che ora non avrei svoltato la mia vita perché cioè come dire il grande scrittore il grande poeta nasce dal dal disagio interno interiore se non sono uno che dentro gli bolle chissà cosa e vivo la vita serena non potrei fare l'artista il padre di Guepechenio era un giurista e scriveva cioè faceva anche testi editoriali cioè tutt'altra roba rispetto a quella che fa suo figlio quindi mentre invece il papà di Noiz Narcos non c'è scritto su internet la professione precisa però però comunque bene allora abbiamo capito forse qualcosa in più e sono contento di averlo capito questa canzone sarà un successo secondo te adesso secondo me lo è già uscito da due settimane l'album ed è una di quelle che va un po' di più proprio perché in tutto l'album è quella con il carattere un po' più introspettivo se vogliamo un po' più profondo di significato mentre le altre sono le classiche canzoni un po' trap un po' cattive dove parlano di roga interessante interessante appunto vedere questo quindi che insomma non è solo quella roba lì il trap come dici tu esatto questo l'ho portata perché è sempre carino vedere come in un genere ci siano più sfaccettature diverse più argomenti che possono essere trattati musicalmente nello stesso modo giusto bene allora se vi è piaciuto appuntamento l'unica prossima con un'altra canzone sai già cosa vorrei portarmi forse sì però forse sì no spoiler no spoiler vediamo appunto che cosa ci porterà settimana prossima Beatrice Patrice voi sentite di nuovo la tua sigla vi chiediamo quella tua sigla questo capolavoro che abbiamo fatto grazie alla I insomma quello che abbiamo pagato ascoltiamocela insomma grazie mille Beatrice Beatrice arrivo col sorriso porto ovunque porto ovunque la sua voce che risplende risplende in questo studio scopriamo con lei le canzoni che ci rendono rendono cosa però si accende il cuore canta con Beatrice risplende il suo jingle canta con Beatrice risplende il suo jingle questa è Beatrice grazie mille grazie mille Mahmood con Inuyasha alle 8 e 39 minuti beh allora il lavoro di Beatrice ha sortito il risultato sperato tanto che appunto arriva un whatsapp da un evidente non genzetta dalla foto di profilo che ci dice questa canzone era anche bella il problema è quando hai l'account Spotify in ostaggio di tua figlia con cose incomprensibili ed inspiegabili dopodiché dice mi trovo però tollerante perché durante gli anni 90 ascoltavamo più o meno le stesse cose ma in inglese e non sapevamo tradurle almeno lui dice così ed effettivamente un tema spesso poi è quello nel senso che noi facciamo tanto quelli che cosa ascolti cosa ascolti poi ascoltavamo delle robe abominevoli uguali negli anni 90 di cui anzi non comprendevamo nemmeno una parola in cui magari si parlava di ammazzare a destra e a sinistra chiunque passasse all'ascolto di quella canzone però noi la cantavamo così spensierati in giro per i parchi milanesi ecco no quindi effettivamente è solo che adesso si capisce un po' di più fino a un certo punto perché poi appunto ci sono cose un po' più incomprensibili proprio per comprenderle meglio da questa settimana avremo Beatrice che tutti i lunedì ci aiuterà torniamo invece a leggere un po' di notizie sui giornali Repubblica Milano fa un conto fa un reportage fa un report anzi di quello che sta succedendo di quello che sta succedendo negli uffici comunali negli uffici tecnici comunali e dice che almeno 40 fra dirigenti e tecnici hanno lasciato il comune di Milano Sala dice è colpa delle inchieste sull'urbanistica sono già una quarantina da quando sono scattate le indagini il sindaco dice il rischio è alto e i sindacati dice siamo preoccupati qui tutti capito chiunque l'hanno presa bene come vorrebbe da dire la paura di firmare atti che finiscono sui tavoli della procura le difficoltà nel gestire pratiche per le quali si rischia grosso tra responsabilità penali e per il posto di lavoro da quando sono apparite le inchieste dei PM sui presunti abusi di lizi di Grattacieli e Palazzoni cioè poco meno un anno fa sono circa 40 una quarantina appunto i dipendenti del comune che hanno fatto le valigie e questo è un tema molto interessante molto importante in questi giorni poi ancora di più visto anche gli scontri tra il mondo politico e il mondo della magistratura qui la questione è davvero cosa dobbiamo fare era palese in realtà io continuo a dirlo che c'era qualcosa che non andasse nel senso che erano abbastanza particolari le costruzioni che sono state fatte erano abbastanza particolari tutto quello che è stato creato dando una semplice scia dicendo no ma ristrutturiamo dei garage e poi veniva su un palazzo di 40 piani ecco cosa fa la magistratura non può andare avanti ovvio che deve andare avanti ovvio che bisogna fare luce su questo dall'altra parte capisco però la paura e il timore dei dirigenti e degli uffici comunali nel dire fermi tutti io qua però ho paura a firmare perché poi guardate cosa succede anche perché se tutto sarà come sembra se anche le indagini dimostreranno che è andata così quelle firme non sono state fatte in mala fede sono state fatte perché le regole davano la possibilità di firmare in quella maniera perché si poteva fare grazie ai regolamenti e quindi è ancora più complicata la situazione qua cioè chi è responsabile di regolamenti fatti male palesemente che hanno portato delle strutture e a delle costruzioni che non dovevano esserci ecco questa è la domanda principale questo è il tema che infatti sta un po' paralizzando così dice sala da una parte i sindacati si dicono molto preoccupati dall'altra e insomma una situazione che è davvero difficile da comprendere e difficile da capire anche come se non uscirà bisogna andare avanti sicuramente sul binario della giustizia e dall'altra parte ovviamente sul binario politico per capire cosa fare nel futuro per rendere questa città ancora importante appetibile come è ma senza magari fare queste costruzioni che insomma danno abbastanza nell'occhio ma soprattutto fanno capire che qualcosa non funziona all'interno dei regolamenti Forno Blondes con Whatsapp alle 8 e 47 minuti qui su Crystal Radio e questa forse queste erano di quelle canzoni forse che prima il nostro ascoltatore ci diceva no l'ascoltavamo negli anni 90 che cos'era boh non lo so l'ascoltavamo eee 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 così tutto il tempo poi non avevamo una minima idea di che cosa raccontasse questa canzone invece sappiamo benissimo di cosa raccontano i giornali è arrivata la notizia poco fa appunto sui giornali la trovate già anche su Milano Today su quello che sarà il prossimo sciopero si è vero perché se ne hai fatto già uno venerdì abbiamo salutato uno sciopero e oggi diamo già il benvenuto al prossimo sciopero che ha tutto un titolo che insomma le premesse non sono delle migliori lego da Milano Today duro sciopero in arrivo 24 ore e senza fasce orarie di garanzia tutti i mezzi ATM a rischio nella città di Milano le proteste non si fermano i lavoratori chiedono il rinnovo del contratto qui si sta arrivando veramente allo scontro tra parentesi mi ricordo che qualche settimana fa avevamo detto ci potrebbe essere l'ultimo sciopero perché sembrerebbe che finalmente hanno trovato un accordo i sindacati con niente nessun accordo e quindi finito lo sciopero si volta pagina e si pensa a quello successivo sembra quasi andare così nel settore dei trasporti a conti fatti effettivamente è una giusta percezione leggo appunto da Milano Today sono diverse le ragioni di questa situazione prima fra tutte il mancato rinnovo del contratto nazionale e come normale conseguenza la persistenza di stipendi bassi per l'intera categoria alla contingenza contrattuale va poi aggiunta la visione politica dei sindacati che fa sì che ciascuna sigla organizzi le proprie protesti l'autonomia è una situazione che moltiplica le giornate di sciopero e quindi anche adesso si sta arrivando appunto all'impossibile sciopero quando 8 novembre sembrerebbe così almeno sembrerebbe così che l'8 novembre non è stato ancora dichiarato non è stato ancora non c'è stato ancora nessun comunicato ma sembrerebbe che appunto si sia sciopero un programma per venire l'8 novembre proclamarlo sarebbero le sigle principali quindi cubo trasporti sgb cobas lavoro privato adl cobas alle quali si aggiungono anche la filtrigl filtrigl wheel to wheel e la faesa cisa e la ugl fna quindi praticamente questa volta molte 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 si manifesta ovviamente come dicevo per il rinnovo del contratto nazionale degli autoferrotrambieri e appunto scaduto nel dicembre del 2023 e ha poi bloccate completamente le trattative a maggio scusate 2024 l'annuncio si legge sul sito dedicato del ministero delle infrastrutture e trasporti dice che lo sciopero del trasporto pubblico locale avrà una durata di 24 ore sarà nazionale e potrebbe non avere fasce di garanzia fasce orarie di garanzia secondo appunto i classici standard che siamo abituati ad avere se fosse così davvero sarebbe un grosso grosso problema in occasione dell'ultimo dell'ultima protesta appunto andata in scena il 18 di ottobre organizzata da Al Cobas l'adesione del personale è stata molto molto alta pensate che in superficie si è sfiorato il numero della percentuale appunto di adesione del 90% stando almeno a quello che comunica lo stesso sindacato e quindi alla fine ricordiamo che oltre appunto al caos tra bus tram in superficie sono state chiuse nella mattina la M2 e la M4 e nel pomeriggio ben tre linee della metropolitana la M2 la M1 scusate la M2 e la M4 se tutto quello che è stato dichiarato appunto dovrebbe andare dovesse andare così avanti il 7 8 ottobre venerdì cos'è l'8 mi ha detto sì l'8 ottobre venerdì 8 ottobre dovrebbe esserci appunto un nuovo sciopero dei mezzi in Milano e oltretutto con non con la non garanzia delle fasce protette diciamo appunto le fasce di garanzia non dovrebbero esserci quindi sarebbe veramente veramente un grosso grosso guaio lo ricordo qualche anno fa ricordate c'è stato qualche anno fa uno sciopero a sorpresa c'era stato anche ricordate cosa non era successo in quella giornata ecco speriamo di non dover rivivere scene del genere speriamo proprio così vedremo 8 novembre attenzione allo sciopero dell'8 novembre 8 e 54 minuti siamo arrivati alla fine di questa puntata di oggi lunedì 21 ottobre di Good Morning Milano e la mattinata di lunedì è solo inizio adesso perché poi dopo di noi ci sarà senti questa con Ambrogio Curti poi tanti altri programmi come ad esempio il Tacchino Curioso quindi potremo scoprire cosa c'è a Milano dove andare qualche curiosità sulla nostra città grazie appunto agli amici del Tacchino Curioso se invece vi siete persi qualcosa della nostra puntata beh c'è il nostro sito internet goodmorning.milano.it lo sapete tutte le mattine vi do queste coordinate oltre al nostro numero di Whatsapp che è il 331 78 53 555 valido per tutte le nostre trasmissioni quindi risponde Cristal Radio com'è che è? 331 78 53 555 risponde Cristal Radio adesso però non andate sbattimento per questa cosa dello sciopero dell'8 novembre deve ancora essere tutto definito bene non andate sbattimento ne riparliamo nei prossimi giorni promesso le voci che avete sentito questa mattina sono state quelle di Filippo Poletti di Beatrice e Fabio Ranfi qui che vi hanno raccontato un po' la nostra città la nostra Milano in regia Ginevra noi ci vediamo domani ci sentiamo domani ci ritroviamo domani alle 7 sempre qui ciao 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 ciao